Qual è la vostra paura più grande? Il vostro incubo peggiore? Il pensiero che più vi terrorizza nell'intimo delle vostre fragilità più recondite? Il mio è una compilation ultima e definitiva di tutti i tiri sbagliati da capopadro nella storia di Quasi Gaming. Tremate, tremate, le sassate son tornate. Questo video non sarebbe mai stato possibile senza il lavoro attivo da parte dei ragazzi della fanpage a cui va il mio ringraziamento in apertura per tutto quello che fanno non soltanto in occasione di questa splendida collaborazione ma in generale per tutto quello che fanno tutti i giorni a supporto della community e in particolare concedetemi, prima di cominciare, un pensiero anche per Raffaele al quale dobbiamo effettivamente l'idea di questo che è il primo spin-off della storia di Quasi e gli volevo dedicare questo Pantor che ho da pigliare ora prima di fare il video. Non è una sponsorizzazione, è un mano pagato. Ho pagato io, gli do un sacco di sordi tutti i mesi. Io ho questi due file, perché non bastava un file, capito? Sono due file. Da quanti erano questi tiri sbagliati? Sono due file. Io ce l'ho sulla scrivania di computer di Mac da mesi, mesi, mesi. Non ho ancora avuto il coraggio di aprirli. Mi racconto che l'ho fatto per non andare a inficiare la spontaneità di questa reaction che andiamo a fare ora insieme, ma la realtà è che non ho mai avuto la forza di cominciare. Quindi li guardiamo ora, insieme. Io non ho neanche la postazione da reaction, però è questo, è lo speciale di Halloween di 2023. Lo sentite il rintoccare dei ferri in lontananza? Sta tornando. Ah, ma si comincia proprio con l'estrazione per non farsi mancare nulla, eh? Aspetta, eh. Buttalo via. Vedi, vedi, vedi l'ingenuità. Vedi lì. E qui te hai pescato uno di, quanto c'era? 78 di valutazione. Nella mia ingenuità dei tempi, sono passati 3-4 anni, io ero lì che dicevo, vedi, uno è 78, è buono, è uno. Capito? Questo video è anche motivazionale in questo senso, come si può migliorare nella vita, come si può... E questo invece è l'ultimo arrivato, che però secondo me ci potrebbe dare qualche soddisfazione fin da subito. A provà! T'aspe ne che le soddisfazioni ti dà! Team Hardaway Junior. È alto, è grosso, ti ricchia bene da fuori, non siamo messi male. Eh no, siamo messi benino. Tra l'altro qui lo chiamavo ancora Team Hardaway, c'è capito? Ancora non era stato impossessato dai demone di tiro sbagliato, capito? Era ancora una persona quasi normale. Poi piano piano è stato posseduto e ancora c'è da esorcizzarlo. Questo è il primo tiro, se non vado errato. Eccolo qui. È il primo tiro di Team Hardaway Junior? Niente. Team Hardaway Junior, hai fatto fare una partita a Chiorba. Vedi, già non aveva difeso su Chiorba, però vabbè, per ora non m'aspettavo. E saresti l'uomo di questi tiri, saresti come status, il problema è che è un chiappino. Il problema è che è un chiappino. Ancora Team Hardaway Junior, stavolta sei solo però, sei libero, hai 78. Hai visto? Ma che ti devo fare io per farti fare questo? Hai visto già il peggiorare del mio tono? All'inizio ero molto bene, poi già qui sei solo, sei libero, capito? Già piano piano comincio a capirsi di che panni ci si veste. Ma per ora mantenevo un minimo, questa è sempre la stessa partita, no, mantenevo per ora un minimo. Non la farà di Hardaway Junior a fare qualche cosa di buono? Io penso di no. Neanch'io. Ora qui è fermo, si butta indietro, sassata. No, no ragazzi. Questa è la stessa partita. Qui ti è il rimbarzo di D'Artagnan. Qui attacca ancora, altro tiro sbagliato, vada a risciare un ol, non so come va il rimbarzo. E questa è la stessa partita. E questa è la cosa che a me mi preoccupa. Perché qui non è ancora cambiato il campo. Quindi questa è la stessa partita. Tutti questi tiri qui, Aiei e Brazzorf, li sbagliano in una stagione intera. Qui siamo sempre nella stessa partita. Ti va a vedere, eh? 0 su 20 dal campo. Ci sarebbe Tim Mardaway Junior, appena segnato da tre. Figurati se mette anche quello. L'occo di Ed Davis per liberare ancora Tim Mardaway Junior. Qui si è impastato. Che si è impastato col pallone. Esatto, e si è impastato col pallone contro il difensore. Che è Lonzo Boll e Tim Mardaway Junior. Che sicuramente faranno qualche disastro. Vedi già che me lo sentivo. Tripla errore. Niente. Stai facendo schifo, non ti si può guardare. E qui cominciano... Questo è il primo insulto. Questo lo possiamo classificare, lo possiamo geolocalizzare come il primo insulto. Va bene. Fino ad ora ero riuscito a mantenere un deco. Siamo sempre nella prima partita, eh, tra l'altro. Perché il campo è sempre quello di Filadelfia. Quindi è sempre... Qui è arrivato il primo... Poi la cosa degenererà. Tim Mardaway Junior contro un centro. Non riesce a venirgli via. Però che giocatore è Red Davis. Non so se avete notato, laggiù di dietro, ma a Tim Mardaway Junior gli hanno fatto un capo quadro che forse se lo immaginavano anche loro dello schifo che avrebbe fatto. Badalo lì. Gli ci vuole una scatola di Amazon per cappello. Vedi? E questo è il momento invece dell'impossessamento dei demoni che prende. E da ora in poi non sarà più lui. Da ora in poi non sarà più Tim Mardaway Junior. E è arrivato ufficialmente il villain per eccellenza che è Capo Quadro. Da questo momento inizia l'epopea di Capo Quadro. Fino ad ora era come quando, ho capito, Peter Parker ancora non è stato morso dai ragno. Per ora se era un po' bored, ora invece siamo proprio a tu per tu. Capo Quadro che riceve la tripla. Capo Quadro. Niente. Noi si insiste a lavorare in concorso. Quindi ancora l'isolamento. Forza di ossa. Ma non mi sembra proprio la serata. E ancora il tiro di Capo dalla media. Niente. Sta tirando qualsiasi cosa. Questa è ancora la prima partita. Bada è Davis che lo mandava a ribarcio. Figurati se una tira e un aspettava altro. Qui c'era uno spazio tremendo. Badalo lì, Capo Quadro, niente. Tutte le volte poteva fare qualcosa. Bada Simoz e Luwawo Habarrot. Qui ancora Simoz e Luwawo Habarrot non l'aveva preso Milano. Quindi era ancora Simoz e Luwawo Habarrot. Comunque questo non ti sbaglia. Ecco, ecco. Vedi? Qui è cambiato. Qui è cambiato il campo. Qui fino ad ora. Tutto quello che si è visto fino ad ora. E sono due minuti e diciotto secondi di video. Era la prima partita. Ma guarda che roba è. Io lo sapevo già perché sapevo già che erano tutti i tiri sbagliati. Quindi lo sapevo. Anche a rivederlo è roba. Io non lo sapevo. Ora per l'uscita dai blocchi di Capo Quadro. Che figurati se non tira. E subito una prima pietrata. Prima pietrata. Ti va da Pascal e Davis. Team Hardaway Junior. Perché chiaramente c'è bisogno di tirare. E giustamente. Capo Quadro non si lascia attendere. Tira subito una bordata. Wall tra l'altro qui giocava per loro. Hai visto? Pare un granchio. È una roba allucinata. Bada questo. Bada questo. In che condizioni? E se presentato. Se fatto stoppa due volte. Levatemelo. Buttatelo via. Mettetelo insieme all'onzo bollo. E buttate fuori la... Vedi? Qui è stata la prima richiesta di trade. Perché nell'NBA le trade le chiedono i giocatori. Nel quasi gaming le trade le chiedo io. Per i giocatori. Questa è la prima volta. Siamo passati dall'inizio. L'ingenuità. La non consapevolezza della vita. Poi l'impossessamento di demonio. Il primo insurto. Questa è la prima richiesta di trade. Levatemelo. Chiave. Tiragli Patrick. Che ce l'hai io questo tiro. Anche perché se no la dai a quest'altro che è peggio della peste. Capisci? Bada. Arresta il tiro dalla media. È imbarazzante. Imbarazzante. Oh. Eccolo. Siamo a posto. È tornato a capo quadro. E qui già c'era questo sentimento di rivalza. Ma guardalo. Ma perché? Ma perché? Se non è compicciato nulla ragazzi. Eh. Figurati. Come può finire. Che poi esce anche bene. Ricciola anche bene. Il problema è che proprio pare lo faccia apposta. Cioè secondo me se ti impegni a sbagliarli. Non ti riesco. Perché alla fine anche per sbaglio. Se io provassi a tirare cercando di sbagliare. Qualche volta anche per sbaglio. Perché ad uno entrerebbe. E invece proprio è un dono. Anche questo è un dono naturale. Una roba di questo tipo. Con calma. Lavorare per Pasquale. No. Bada quanto spazio c'aveva qui. No ragazzi. Pecco d'esto no. Veramente. Credetemi. Pecco d'esto no. No. Ormai non lo puoi più fare. È implacabile. Lui ormai tira qualsiasi cosa. Questa è l'ineluttabilità. Badawi che recupero l'aveva fatto. Riesce a trovare un quasi assist clamoroso. Non gliela date per l'amor del cielo. E qui siamo all'invocazione. Difesa dei Nez. Non gliela date per l'amor del cielo. Lo dico contro il mio guadagno. Stategli più vicino. Perché se no quello veramente tira qualsiasi cosa. Fermatelo. Sei impastato contro il difensore. Comunque tre azioni. Ma guardalo. E quattro tiri. Ma guardalo. Ma è stato stoppato la prima volta. Ha ripreso il pallone. E ha ritirato da tre. Da più lontano. Da più difficile. Ma a me mi cipiglia l'ascido. E io lo so già come andrà questo tiro. Non è che sei in diretta. Che hai la partita. Poi vince. Io lo so già. Non vinco niente. Perché la partita non si sta giocando. Io mi cipiglia male ancora. Capo quattro malefico. E neanche difende. Guardalo. E neanche difende. Questo è il primo richiamo alla difesa. Fino a ora. Sono passati quasi quattro minuti. Fino a ora. Se era parlato solo dell'attacco. Che è tanta roba. L'attacco è tanta roba. Questo è il primo richiamo alla difesa. Era Batum. Un po' di questa sicurezza immotivata in te stesso. Sicurezza immotivata. Capo quattro. Non la potevi da Pascal. Pascal era. Era sia Ham. Pascal secondo me era Eric Pascal. La mia titrebbia. Secondo me Pascal era la mia titrebbia. Ma poi che dì. Ha messo la prima. Badalo. Guardalo. Guardalo. Ha messo la prima. È ineluttabile. Lui ora tira qualsiasi cosa per tutta la partita. Dice ma io ho messo la prima. Chi se ne frega se poi ho sbagliato. E questa è un'altra caratteristica di Capo Quadro. Se tanto puttacaso per sbaglio malauguratamente qualche volta lui metteva il primo. Era finita. Se qualcuno di voi non ha recuperato la stagione dei quasi gaming. La prima. Con il Capo Quadro. Che era la seconda. Un mio rio. Insomma andatela a vedere. Lo trovate. Se mettevi il primo tiro lì te avevi la vita assegnata. Quell'altro è il 270 che ho preso dopo. Occhio occhio a Ray Allen che esce dai blocchi. Mennomale. Chi è un Ray Allen? Non c'era il Ray Allen. Guarda quanto spazio c'avevi. Quante bocchiate. Ma perché? Perché? E invece niente. Lui è tornato a picchiettarsela. Ha preso un blocco addirittura. Questa è la mia titola. Che ora si allarga. Poppa e spara. Che poi questi lo battezzano. Bada e Davis è il giocatore che era. Guardalo. Guardalo. Ma proprio lui non ti calcola. Il primo pallone che tocca Capo Quadro si butta dentro e non fa prigionieri. Qui è cambiata la partita. Il primo pallone che tocca. Scansati. E' inutile che tu spendi il pallone. Che battume in panchino. Ho visto. Ma anche Diri Liberi ha sbagliato. Anche Diri Liberi ha sbagliato. No. Il secondo? No. Ha fatto zero su due? No. Via. No. Io non ce la posso fare a Reggilo per tutta la stagione. Ma guarda io non me lo riordavo così eh. Io me lo riordavo tremendo. Però mi sembrava. Poi sai è diventato un meme negli anni. E quindi a volte uno magari. Io avevo un po' anche la sensazione a volte di aver calcato un po' la mano per il meme. Non è il meme. E' proprio tremendo. E' proprio lui. E' una roba. Non ce la posso fare. Siamo all'ultimo possesso. Il pallone ce l'ha Team Hardaway Junior. Io non ve lo sto neanche a dire chi è che tirerà una bordata sui secondo ferro. Eh ma lui c'ha la licenza di uccidere. Eh l'avesse verso se stesso. Eh ce la ria a questo. E risiamo alla fine del secondo quarto. Penso che il punteggio definitivo dell'intervallo sia 25 a 16. Sinceramente non ho speranza che possa migliorare. Sbagliato anche come scelta. Come criterio. Contro il secondo ferro. Eh ma qui si lavora. Lo rivedrà la luce questo pallone? No. Perché tutte le volte che vanno in buco nero. Poi non si è grosso eh. Rishaw non mi sembra ricordato più piccino. Un altro errore di Team Hardaway Junior. E io sono anche sempre più convinto che loro secondo me lo fanno apposta. Perché loro potrebbero essere tipo a più settantane. Guardalo è Davis. Guardalo è Davis. La scommessa il tap-in. Che giocatore allucinante. Che giocatore sull'ennesimo errore di Team Hardaway Junior. E ora c'è questo che figurati se te la ridà. Guardalo lì. Ma neanche il terzo tempo. Terzo tempo. La prima volta e fai i minibasket. Ti insegnano il terzo tempo. Prova a portare un blocco tario. Un altro blocco di D'Artagnan. Ma tanto Team Hardaway Junior tira qualsiasi cosa. E ha sbagliato. Ma hai visto? Hai visto questa inquadratura qui? Come era proprio quadrangolare il capo dalla parte di via. Allucinante. Allucinante. Eh lo stai a vedere eh. Palleggio palleggio palleggio. Tiro errore. Fortuna che c'è D'Artagnan. E comunque non ho capito sinceramente l'idea di rimettere Derek Favors ora. C'ha dei bei tempi di uscita eh. Devo dire anche perché non lo difendono. Ma lui da quando è entrato non c'è stata una volta che ha toccato palla che non è uscito. Ma i tiri liberi. È impressionante. A me la cosa mi fa uscire di testa sui tiri liberi. Siamo ai 12 secondi del terzo periodo. Si potrebbe provare a chiudere con un mini parziale favorevole. E poi c'ha questa cosa. Siamo ai settimo minuto. Questa è già la terza o quarta volta che fa questa cosa. Tutti gli ultimi tiri dei quarti li pigliava lui. Come se sapesse giocare a palla. Come se fosse uno capito che gioca. Il problema è che la palla ce l'ha lui. Per cui non penso che te la ridia mai nella vita. Esatto. La rinnovata c'è l'impresa di pulizie. L'impresa di pulizie. Primo possesso. Primo pallone toccato. Tra. Bell e indirizzato verso il canestro. Secondo possesso. Secondo pallone toccato. Secondo pallone indirizzato verso il canestro. Come finirà questa azione? Ma qui era solo. Nel canestro è riuscito a fare. Non t'ha neanche toccato. Cioè gli hanno dato fallo. Un po' di telefono. E che fa? Perché se no sbagliavi un'altra volta. È inutile. È inutile. Io non so veramente come fa con questo. E anche tiri liberi. Cioè per me è un bug. Guardalo. I tiri liberi. Ma non è vero. No a me tiri liberi. Io non gli ho dato i tiri liberi. Ma guarda. Ma questo è un altro 0 su 2. No vabbè. Cioè ma. Ma come è possibile? Ma è una congiura contro di me. NBA 2K. Io l'avevo rimossa questa cosa di tiri. Qui c'è anche lo step back. E quarto pallone e quarto tiro. Quarto pallone e quarto tiro. Tutti poi rigorosamente piantati nel secondo ferro. Cioè proprio ci si ingegna. Non è una roba che gli viene così naturale. C'è uno studio dietro. E mancano 6 secondi. Io non ve lo dico neanche come andrà a finire. E cala. La tripla di Tim Mardaro e Junior. E niente anche stavolta. Secondo possesso. Il taglio backdoor. Quindi gli mettano addosso anche il miglior difensore. Loro che era Chiorba quell'anno lì. In quel momento lì. Era il miglior difensore della squadra. Lo mettevano sul capo qua. Cioè proprio tiro. E' entrato anche il... No. No. Hanno trovato in modo di entrare lo stesso. Guardalo. Ha appena ricevuto. Non ha neanche fatto in tempo a controllarla. Bella è tirato. E io avrei aspettato un pochino. Il granchio. Che giocatore è il granchio. Questo è il secondo possesso che tocca. Stai a vedere. Secondo possesso. Blocco di granchio. Parte dal pallone. Cambio difensivo. No. Tra. E' un altro tiro sbagliato. Ma gli era proprio messa nelle mani. Terzo pallone. Ma guarda qui. Boucher. No. No. Ma guardale. Ancora più squadrato. Qui c'era Embidde. Questo è Embidde. Questa è la prima volta che c'era Embidde. Ma sai io a volte avevo... Embidde era lo stesso anno di capo quadro. Come ho fatto a arrivare in fondo? Io non... Altre volte è rientrato. Con il numero undici. Il primo possesso l'ha passato. Vedi l'hanno fatto anche in te. Però il primo possesso l'ha passato. Poi se li eri dai è finita. La seconda volta come vuole finire. Capo quadro. Arresto. Tiro. Dalla media. Niente. Non ce la fu più. Hashimura. Hashimura. Mi battezzano come Rondo. Ma possibile? I rimbarsino le figlie. Difendi. Ma non... Ma qua ma... Ma dopo due azioni io mi so bello e pentito. Ma sarà possibile? Ma perché non lo leva? Non le va perché non me lo facevate. Le va? Per cortesia fatevi vedere. Dategli qualche cosa. No è finita. Ma guarda. Non ci puoi proprio per niente che fa mai. Qui aveva anche attaccato lo spazio. Qui aveva anche fatto la scelta giusta da un punto di vista tattico. Niente. Secondo me io ve l'avevo anche messo in più di un'occasione al ballottaggio. E voi giustamente, giustamente, me lo salvavate tutte le settimane. Andava così per poi non potevo reggere così. Questo pallone che lui ha preso il rimbalzo, ha fatto il costo costo. E mancano gli ultimi dieci secondi. Come potrà finire mai questa giornata? Gli ultimi dieci secondi è una sentenza. Le tasse, la morte, Team Mardave Junior. Guarda. San Giovanni in persiceto. Invece ha tirato. Era meglio se non te ne accorgevi. Io farei notare che non ha ancora toccato un pallone. Non ha ancora toccato un pallone. Eccolo lì che esce dai blocchi. Attenzione. Primo pallone toccato. Vediamo se è in forma. Vediamo. È carichissimo. È carichissimo. Finito il primo video. Perché erano due. Ora cambio video. Rieccomi. Secondo video. Ragazzi hai il primo possesso. Primo possesso. Purtroppo gli amici. Il bracciolo bianco invece di il bracciolo rosso. Ma guardalo. È bello il preso. Ha bello il preso. Ma perché? Ma perché avevo questa attesa? Che era successo? Sai che non è che se era magari dato via e poi se era ripreso? Ci sta? Può essere. Perché avevo questo senso di attesa? Se era una partita qualsiasi dovevo essere più rassegnato. Non me la ricordo questa cosa. Il giocatore tremendo e terrificante. Bordagli capo quadro l'obiettivo e tira giù ogni bene a furia di sassate. Attenzione. Secondo pallone. Mancano otto secondi. Vai in isolamento. Ancora. Capo quadro. Vedi che era un bello carico però. Perché quello è Devin Bucher. Lo attacca. Subisce il pallone. Bucher che non difendeva. Due palloni. Due tiri. Capo quadro. Però non ho detto tipo capo quadro is back. Tiro libero è ancora una roba. Tiro libero si è buttato di fuori. Cinese guarda che se gli fai fa tipo 0 su 20 e lo fai più da 0 punti io potrei rivalutare il tuo operato nei confronti di questo gioco e fa schifo eh. Attenzione. C'hai una chance che è roba da chiodi. Perché non riesco a capir questa dinamica. Non mi ricordo che era successo. Perché è sempre le stesse squadre. Quindi non è che era cambiata stagione. Però io ho una verve diversa. Come se fosse tornato. Non lo so. O forse si era messo a sedere. Forse non si era dato via. Si era messo a sedere per un po' di partite. E poi a furor di popolo si era ributtato dentro. Doveva essere successo questo. Terzo pallone. Terzo pallone. Terzo sassano. E' in palla. Attenzione. Attenzione. Attenzione perché si sta lavorando per l'uscita dai blocchi. E siamo a 5 su 5. 5 su 5. Bada a Davis. Sui palloni toccati. E 5 errori. Attenzione perché dopo la panchina. Dopo la panchina non fa prigionieri. Eccolo là. Praticamente è un buco nero. Cioè tutti i palloni. Dopo la panchina. Però forse è stata la panchina durante la partita. Poste di capo quadro ai cerni di Ginevra. Ma neanche difende. Neanche fa taglia fuori. Questa ricezione in post basso. Qui si butta indietro. Eeeh. Su una gamba sola. Su una gamba sola. Eeeh le doppie uscite. Capo riceve. Spara. Un'altra sassata. No 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 no. Questa è la stessa partita ragazzi. Ma voi vi rendete onto le percentuali. Attenzione. Il depresso. Back to back depresso. Mi sei accesi il depresso. Il depresso qui era un tondo. 16 secondi con il depresso e palla in mano. Qui c'è una sola conclusione possibile per questa situazione. Ultima azione depresso. 18 secondi. Il depresso. Capo quadro. Contro l'impiegato di Catasto. L'impiegato di Catasto. Si butta sul blocco. Ennesima sassata. Fuori anche voi. Questa era attesa. Questa era bella. Non cito le statistiche. Faceva comodo. È una componente di abbigliamento. Il depresso. È una componente di abbigliamento. Insieme ai braccioli. Mi è un'interiata contro l'impiegato di Catasto. Palla persa. Palla persa però mi stona. Sono abituato. Non so se ti va bene lo stesso. Vedi. Dai che è la tua. Il quarto di campo. Con i Gatorade. Il depresso. L'errore. Il rimbarzo. Gasole. Non ce la puoi fare. Ma poi vedi per terra. Non c'è solo il depresso. C'è il depresso macchiato. Come il caffè macchiato. Lui c'ha il depresso macchiato. Perché non è soltanto il circoletto blu. C'è anche delle macchie. Non sanno più che fai. Ora gli busano una croce in i capo. Non sanno più da che parte rifassi. Tra l'altro lo fanno marcare. Ora dai peggio difensori. Prima da Chiorba. Ora dall'impiegato. Cioè dai peggio difensori che c'era in assoluto. Perché anche loro avevano fatto l'upgrade a un certo punto. Non ci puoi giocare. Ma basta. Ma basta. Ma veramente tu fai un arbero di Natale. Quando ricevi il pallone, i depresso, i getter, i dille, il bracciolo. Basta. Io l'ho presa sui ride. Ma ora basta. All'inizio l'avevo presa bene. Poi. Ma guarda. Qui c'era Giavalone tra l'altro. Ultimi 2-7. Si lavora ovviamente per l'uscita dai blocchi di Capodaglie. Come può finire. Attenzione. Un secondo. La virata. Il tiro. Capoquadro. De. L'ha sbagliato. L'ha sbagliato. Supplementari. Il tiro della vittoria ha sbagliato. Supplementari. Lui potrebbe fare qualcosa di insensato in questo finale. Questa la sbaglia. Il rimbarso però ancora di McGee. C'è vita. C'è speranza. C'è possibilità. E ritira. No vabbè. Oh. Qui. Qui è cambiato lo scenario. Qui è cambiato lo scenario. Questo era un quasi all star game. Perché qui siamo tornati a Chicago Bulls e Utah Jets. Quindi era il quasi all star game. Non so se di quell'anno lì o dell'anno dopo. Perché qui c'è sia Bobanone. Vedo. Al rimbarso. Con i gemelli del destino. Quindi forse era l'anno dopo. Forse era già l'anno dopo. E ovviamente lui è convocato. Perché lui è convocato fisso. È come è una roba. E te proprio non ne puoi. È convocato fisso. E qui è questo curioso. Perché qui mi ricordo qualche cosa. Mi ricordo se addirittura ce la fece vince. Mi ricordo che fece. Per mettere subito in chiaro le cose. Appena l'hanno visto. Gli hanno detto. Come va capo. E lui si tira avanti. Si tira avanti. Si tira. Per mettere subito in chiaro. Secondo tiro. Qui veniva anche scritto in arto. Com'era il tiro. Tremendo. Si sono arzati dei personaggi mitolo. Eh niente dai. Però qui il tema era. Qui l'atmosfera era goliardica. Capito. Perché era comunque uno Stargame. Quindi se anche se. Qui l'atmosfera era goliardica. Sono cambiati. Sono invecchiati. Sono peggiorati. Lui. Lui. Lui tira dritto. Lui proprio non sente storie. No. 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 Ragazzi. È cambiato gioco. Sta facendo perdere lui. Come ai betempi proprio. Non è cambiato niente. C'è capo quadro contro buche. Si va dai parcheggiatore abusivo. Qui addirittura è marcato da buche. Guarda che pallone gli addaume. Fiondo. Step back. Qui ero già passato ai grugniti. Capito. Ai rumori proprio animaleschi. Perché poi dopo un po' uno perde anche la possibilità di argomentare a parole. Qui ero già arrivato a un livello avanzato della problematica. Scarpe rosse in effetti mancano. Scarpe rosse di me fiondo sono una delle cose che mi mancano di più. Ma lo vedi? Guarda qui. Guarda qui. Tempismo molto in ritardo. Scritto rosso. Pressione. Tiro contrastato. I peggio di peggio. Cioè non è da dire. Uno dice. Vabbè. Una serata un po'. Tutto rosso. Tutto sbagliato. Tutto. Tutto. A un fucile di precisione. Per poter cercare di mirare in punto buono. In momento giusto. E fare fuori qualche d'uno. Uno su otto. Uno su otto. No 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 no. No no. Te ti devi arrendere. Vira contro sua artezza. Devi venire fuori con le mani arzate. Ecco. Scarda. Scarda le mani. Per ora i polaretti al confronto fai un peperoncini a Ienna. Ma qua. Ma anche ti ho lì. Io l'avevo proprio rimossa questa cosa. Questa è riformata l'accoppiamento. Tripla. Vada Bobanone manterrarto. Vada qui come c'era Mefiondo. Hai il gomito. Questa tira. Tajo. Tajo. No. Però non gli ha stiacciato. Era tajo. Era finito. C'è un mismatch. Ho capo. Ma da Poguseschi. Il regno di terrore. Viene fuori certa gente. Ma veramente. Ma dopo tutto questo tempo. Proprio sempre più quadro poi. È davvero. E qui. E qui è peggiora la situazione. Questa cosa se ne parlava anche a un qualcuno di voi. All'inizio. Quando io dissi che c'aveva il capo quadro. Ce l'aveva. Perché se no. Non è che. Cioè. Lo dissi perché ce l'aveva. Però. Era comunque. Aveva ancora una forma vagamente umana. Con l'andare delle stagioni. È proprio peggiorato. È proprio rinquadrito. Io non. E ormai si va dritti fino alla fine. Anche perché che fai. Non ce lo regali un altro ferro. Rosso rosso. Mi pareva. Mi pareva il minimo. Ci vorrebbe un caneso di Mefiondu. Pei morale. No. Qui c'aveva spazio. Ma veramente. Ma veramente. Tacco neanche ha arzato le mani. Perché giustamente. Aveva capito. Che era il coso. Che era il sistema. Di uno Stargame. E quindi doveva. Niente. Qui c'è un'estrazione. Che cos'è. Perché poi si ripescò. L'anno dopo. Coi Minnesota T. Walls. Si ripescò. Non paghi. Capito. Quante volte è successo. Che un giocatore è stato ripescato. Per più stagioni consecutive. O comunque diverse. Pochissime volte. Lui sì. Perché le sfortune. Non capitano mai da sole. No. Bene sì. No. E qui la reazione è un po' diversa. Se mettete insieme le due reazioni. Qui è un po' diversa. Quella dell'inizio. Eh un buon giocatore. Tira. No raga. Ammonte. Si rifà. No. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Dalla prima giornata no. Alla prima giornata. No. Capo quadro in mezza transizione. Guarda. Minnesota. Guarda. Prima cosa stoppata. È un buon giocatore. Attenzione. Capo. Da tre punti. Capo. Guarda. Ti dirò. Per come poteva. Eh ma però. Qui gli stavo quasi facendo un complimento. Sfondamento. Oh. Attenzione. L'ha preso capo. Hai visto? Come il gambero. Guarda. Vedi? Sera in capo quadrito sul finale. Incredibile. L'egiziano. Cameron Payne era l'egiziano. Tra l'altro qui c'è. Qui c'è. Vedete. Zehen Nagy. Che ieri sera. Io sto registrando questo video di lunedì. Va bene. Nonostante Halloween sia domani. Ieri sera. Vedevo tranquillo. Tranquillo mi smonta tutte le mie sicurezze. Dopo. Aspetta. Come lo chiamava lui? Cabengelé. Dopo Cabengelé. Ieri sera mi tirò fuori. Zeek Nagy. Ma Zeek Nagy. Ma Zeek era il fidanzato della bionda dell'aeroplano di quella serie. Non mi ricordo neanche come sono andati a finire. Chi è Zeek Nagy? Zeek Nagy. Flavio tranquillo. È un'altra salsata. E c'è il depresso lucicante. Depresso lucicante. Perché non gli saprano dei depressi normali a lui. Non gli sa c'è un depresso normale. Il gioco stesso riconosce che è un livello superiore. Capite? Come il Super Saiyan 4. Ora gli spunterà la coda e tutti i peli rossi nei bracci. È un depresso lucicante. Per farvi capire proprio in che condizioni è messo. Cabo. E' addirittura in corsa. Il depresso lucicante si fa stoppare in un arresto e tiro. penetrato. Il resto è il tiro penetrato. Il depresso lucicante. Eh no 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 no. Ormai non fa prigionieri. È un fire. È un war. Qui c'era Azubuiche. Bada quest'altro. Io l'ho belle vista come va a finire. Qui è cambiata partita. Secondo ferro. Ma lo conoscerò. Drammond. Qui c'era Achille Lauri che ancora non era Achille Lauri che era solo Haile Lauri che giocava con noi. Durato pochissimo perché già però giocava per noi. Non me ne ho ricordato questa cosa. che alla porta d'ingresso c'è scritto spingere. Capito? Lui non vede scritto tirare e quindi proprio non entra neanche. Si imbaurisce, rimane fuori e noi si vince la partita. Attenzione. Attenzione. Il focolaio. I piedi accesi stavolta. È venuto dalle nocce. La farai o il focolaio? No no no. Ti rispondo io no. Non c'è altra soluzione. No ragazzi, non smettiamo. Guarda, guarda. L'ha presa in mano. Lui guardalo. Se l'ha picchiettata. L'ha presa in mano. Si sospendi i piedi. Incredibile. Incredibile. A tutta la squadra. Questo è l'effetto che mi fai, mi spingi i piedi dalla disperazione. Il discorso sta in poi posti. Se te non fai più canestro, alla fine quell'altri, anche per sbaglio, non ce l'hanno loro. Qui guarda, ha attaccato bene. Step back e gli si è riaccesi il depresso. Ma ti rendi onto, capo. Io veramente... Questa cosa di depresso, luciante, secondo me, rende proprio l'idea dello schifo che fai. In effetti questo mi manca un po', eh. La dovrebbero reinserire anche nei giochi di quest'anno il depresso, luciante. Siamo sotto di tre. È finito il terzo quarto e siamo sotto di tre. Tanto non ci si può tirare fuori niente di meglio da quello lì. Vada il rimbarzo di Dustin. Guarda questo. Era in panchina e tornato con lo stesso depresso di quando era ucito. Era grosso, eh. La cosa bella è che cambiano le apparizioni, perché prima era con Philadelphia, poi Chicago allo Stargame. Cambiano i giochi, perché non è sempre il solito, cambiano i giochi. È sempre uguale. Io da un lato... No, ora... Stavo esagerando. Avevo detto da un lato vorrei addirittura che ne gioco di questa... No, voglio rimanere con la curiosità, va bene? Non mi interessa. Io lo panchinerò e non lo rimetterò mai più nella vita fino alla fine di campionato. Non mi potrete dire niente. Perché se io l'avessi preso e proprio neanche tenuto... Beneficio del dubbio. Allora uno poteva dire... Edo, ma te c'avevi i pregiudizi... Ma io l'ho fatto giocare. Io gli ho fatto fare schifo quando gli è parso. Lui, dopo oggi, non giova più. Siamo su... No, no, vabbè, dai. Questo era addirittura forzato. No, bisogna proprio cambiare sport. Era a fine partita perché poi c'è il fallo sistematico. Per vincere. Per vincere. A tutto campo per vincere? Ma niente. Ma niente! Ma di solito nei tiri a tutto campo lo script di gioco è addirittura quello di fatti ci crede. Cioè fateci caso. Nel gioco, quando uno piglia un tiro a tutto campo, quasi mai... Cioè di solito fa tutto un tutto, però pigli qualche cosa. Per fatti ci crede, no? Perché fa engagement. Perché quello è gioco. Quasi fatto a nè. Niente! Niente! Non ha preso niente! Una roba incredibile. Siamo qui per tirare... E questo è un altro Stargame. E questo è un altro Stargame. Perché giustamente voi tutti là... A parte che questi hanno la maglietta come lo stabilo boss. Come mai gli hanno fatto questa maglietta tutta fosforescente in questo modo? Perché voi giustamente tutti l'anni non solo lo selezionate, lo convocate, ma titolare! Cioè nei Bulls! Capito? Titolare! Non si lascia proprio pregare e la traventa sui secondo ferro. Maledetti giorno e t'ho pescato! Maledetti giorno e t'ho pescato! Siamo partiti, capito, con tutto l'escursus, poi le prime maledizioni, poi le prime richieste... Maledetti giorno e t'ho pescato! Perché poi a un certo punto uno arriva a un senso di pienezza tale che va a ripercorrere anche al ritroso. Da metà campo? Da metà campo! No, no, questo è in campo aperto. Guarda, lo qua è peggio da quella... Nella nuca! Nella nuca gliela dà! Ora si va di small ball in quel... Eh, ma tanto è inutile fare gli schemi, è inutile provare la tattica, perché alla fine c'è un buco nero che assorbe tutto quello che gli passa... E torna la cosa di buco nero, torna! Ecocita all'esistenza! Ora, il pericolo per i Chicago Bulls è che da qui alla fine, complice tutto quello che è successo, vedi, si voglia prendere la scena l'uomo dai cranio a quadrilatero che subito l'ha traventato. C'era anche Wendell Carter Junior, io l'ho visto, lui cercava di passare inosservato in questo video, ma io l'ho visto, è apparso! Guardalo lì che marca il regno di terrore! Tra l'altro, bada che il quintetto che c'aveva a Chicago in questo momento, con il regno di terrore da 4 e Meffiondu da 5 contro Tachofolle, perché giustamente Meffiondu può essere alto anche di 15 metri, Meffiondu non ne frega niente. C'è sia gli USA Jets per gli ultimi 10 secondi di terzo periodo, io penso che non ci sia la minima possibilità di levargli qui il pallone tra le mani, forse non dirà neanche, bada, dalla paura che ha che gli possano portare via la possibilità. C'è un altro con il depresso acceso. Chi è quell'altro con il depresso acceso? In Udala, chi è? C'è non ci puoi fare niente, non ci puoi venire. È Wall, è Wall, è Johnny è quasi magia con il depresso acceso. C'è proprio, guarda, Mimì, il quarto di campo, cioè proprio, vada, Johnny, da tre punti, con il depresso? Ma guarda, in mezza transizione! No, vabbè. Come Fiondu che deve fare, non lo voglio neanche vedere, no, no, ma veramente, ma so quattro anni. Sono quattro anni che vedo questa banda, io. So quattro anni che vedo questa banda, quindi vuol dire, in effetti sì, perché Philadelphia e Minnesota, le due apparizioni, e poi i due lo Stargame. È incredibile. È finito? No! Che è il tuo palcoscenico? Vai, Papo! Philadelphia e Brooklyn? No, no, un tira! Non ha tirato! No! La delusione di una vita! Una volta che doveva tirare, e non ha tirato! Beh, me è garbata anche la scelta di montaggio, lasciare questa cosa per lo sgarbo finale, capito? Me è garbata, perché questo ti fa capire proprio il personaggio. L'unica volta in cui doveva tirare in tutta la sua esistenza, non ha tirato! Voi ci riederete e noi si riuscirà a arrivare in fondo a questa stagione senza Capo Quadro. Io no. Allora, questa cosa poi me la montano, capito? E me la clippano, e una community normale direbbe, ma allora te hai truccato le estrazioni. Invece no, se a noi ci esce Capo Quadro, loro sono contenti. Grazie a tutti.